Chiederanno un incontro con l'amministrazione comunale a breve le rappresentanze sindacali del comune 10 Reale che si sono riunite in vertice ieri pomeriggio. Da quanto emerge nessuna richiesta ufficiale, ma solo un primo confronto tra i portavoce dei dipendenti comunali e la nuova amministrazione. Di fatto si tratta di una formalità di rito che non è stata ancora espletata. Quella tra RSU e amministrazione comunale sembra però essere in questa fase una partita a scacchi dove nessuno dei due contendenti fa la prima mossa. I sindacati vorrebbero chiedere la delegazione trattante, ma non lo fanno perché di fatto in questo momento non c'è nulla da trattare visto che il piano di spending review non è stato ancora approvato in giunta. Se ne parlerà la prossima settimana. Roberto Barbagallo e la sua squadra di governo dal canto loro stanno valutando modi e tempi per chiedere sacrifici al personale dell'ente preso atto del fatto che è venuto il momento di tirare la cinghia. Grazie. 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 Grazie.